L'introduzione al concetto astratto di dimostrabilità in senso intuizionista è l'argomento dei prossimi video. In tali video si intenderà il concetto astratto di dimostrazione come non interpretabile in quanto dimostrazione formale. Perverremo attraverso argomentazioni di carattere logico-filosofico al concetto di dimostrabilità in senso intuizionistico come operatore modale. Sarà l'introduzione della dimostrabilità come operatore modale che ci permetterà di istituire una modellizzazione kreppchiana della logica dell'apparire, così da dimostrare nella teoria dei modelli i teoremi sulla logica intuizionista che Godel presenta nel 1932-1933. Tenuto conto che la logica intuizionista è logica dell'apparire, i rapporti tra questi argomenti e la teoresi severiniana vengono messi in luce nel corso dell'argomentazione. Mi rendo conto che il corso dei video di questo canale assumono sempre più la forma del saggio, per cui per comprendere ciò che è detto in un certo video è necessario avere almeno ascoltato i video precedenti. Quando saranno presentati i teoremi, ciò sarà detto in modo esplicito. Il resto è da considerarsi come argomentazione filosofica di introduzione alla semantica dei teoremi. Si era visto come nella logica dell'apparire è ritenuto non valido il principio del terzo escluso. Vediamo ora come da tale non validità si possa pervenire ad un concetto astratto di dimostrabilità in senso intuizionistico. Se P è una proposizione, per il logico classico, P o negazione di P è una proposizione vera a prescindere da ciò che P asserisce. Per il logico intuizionista, P o non P è vera solo nel caso in cui si riesce ad esibire una prova di P oppure una prova della negazione di P. Se P è la proposizione 7x7, 49, per la proposizione P vi è una prova, vale a dire che vi è un calcolo che stabilisce la verità di P. In un caso come questo, anche per il logico intuizionista, P o non P è vera, proprio perché si ha una prova di P, ed inoltre dalla verità di P o non P segue che P è uguale alla negazione della negazione di P. per una... per una... lo scrivo... quanto stiamo dicendo equivale a questo P o non P uguale ad M equivale uguale alla negazione della negazione di P. Ecco, una dimostrazione di questo, di questa equivalenza, la potete trovare a pagina 286-287 di Logica dei Mondi, di Alemba Dio. Per ora, qui non la diamo, vedremo se darla in un appendice. Ora, la non validità del principio del terzo escluso ed il significato dell'inviluppo come maggiorante di un dato insieme di gradi di apparizione, fa sì che nella logica dell'apparire la disgiunzione di due proposizioni A e B, quindi la proposizione A o B, possa dirsi vera se e solo se vi è una prova di A oppure una prova di P con A è il grado di apparizione di A e P con B è il grado di apparizione di B, Allora, P con A o P con B? P con A, che noi abbiamo la disgiunzione di P con A o P con B, come si è visto nei video precedenti, l'avevamo indicata con questo segno, che è il segno dell'unione insiemistica, ma in questo caso assume che significato? Quello che è detto al secondo membro dell'uguaglianza, vale a dire l'inviluppo tra P con A e P con B. Quindi, tale inviluppo è il massimo grado di apparizione se o P con A o P con B assumono il valore massimo di apparizione, quindi se e solo se A è vera oppure B è vera, ma ciò non avviene sempre. Ora, il grado di apparizione di una disgiunzione dipende dunque dai gradi di apparizione delle componenti di tale disgiunzione. E se una almeno delle componenti assume grado massimo, allora e solo allora, la disgiunzione assume grado massimo e diremo che è vera. Rammentiamo che i gradi del trascendentale soddisfano ad una relazione d'ordine. Il concetto di verità a cui può fare riferimento la logica dell'apparire deve necessariamente basarsi sulla relazione d'ordine che costituisce l'apparire. Per cui, se A è vera significa che il suo grado di apparizione P con A è massimo. Ma che P con A è massimo significa che vi è un C tale che P con C sia minore di P con A. Che P con A appaia come grado massimo vuol dire quindi trovare un C per cui il grado di apparizione di C sia più piccolo del grado di apparizione di A. P con C minore di P con A. Quindi significa trovare un C che sia in relazione con A e che il grado di apparizione di C sia appunto minore del grado di apparizione di A. Se il grado di apparizione di A è massimo, allora in questo caso diremo che A è vera. Mettiamo un po' la luce. Bene. Ora, trovare C in modo che P con C sia minore di P con A significa costruire quindi una concatenazione che porta da C ad A che sia una concatenazione logica essa stessa costituita nell'apparire. Quindi significa costruire ciò che noi indicheremo con C implica A. Abbiamo usato questo simbolo per implicare proprio per significare che questa implicazione vuole essere un'implicazione che non è l'implicazione materiale a cui normalmente ci si riferisce nelle logiche formalizzate. E sarà proprio l'esplicitazione del significato di questo simbolo di implicazione, il nocciolo, l'argomento intorno a cui ci stiamo muovendo. Cosa significa implicazione? Quindi dimostrabilità in senso intuizionistico. Ora, nella logica classica si ha che C implica A equivale a non C o A. Ora, questa equivalenza in logica classica è ritenuta valida anche se non si ha la benché minima e più palli di idea del significato di A, di ciò che A vuole dire. Qualunque sia A. Quindi anche se non si ha idea di cosa dica A è valida questa equivalenza. Ora, per mostrare quanto sia convenzionale e povero di senso tale modo di ragionare poniamo A uguale alla negazione di C e supponiamo per esempio che C significhi T è un triangolo equilatero. Facciamo la sostituzione e otteniamo l'equivalenza che è espressa sotto. Allora, in questo caso diremo che se C è vera allora non C o non C è falsa e ciò equivale a dire e ciò equivale a dire che è falso che T è un triangolo equilatero implichi T non è un triangolo equilatero. Se invece C è falsa allora non C o non C è vera e ciò equivale a dire che è vero che se T è un triangolo equilatero allora T non è un triangolo equilatero. Questo tipo di deduzioni logiche non sono permesse nella logica intuizionista se non nel caso specifico in cui la logica intuizionista si riduce alla logica classica siamo nel caso dei mondi atonali come li chiama l'envadiere. Di questo tipo diciamo questo tipo di argomentazioni tengo a sottolineare che erano state le argomentazioni di Lewis nella sua symbolic logic sono argomentazioni sono argomentazioni fatte da Lewis per introdurre il concetto di implicazione stretta. Ma non entriamo nei dettagli dell'implicazione stretta di Lewis. Quello che intendo sottolineare per questo video è la cosa seguente cioè questo tipo di deduzioni logiche non sono permesse nella logica intuizionistica se non nel caso in cui questa si riduce alla logica classica proprio perché il significato che si dà alle costanti logiche di congiunzione disgiunzione di implicazione è diverso da quello che se ne dà nella logica classica. Grazie A presto